Alla soglia dei 44 anni Simona Galassi continua a combattere con la grinta che l'ha caratterizzata in tutta la sua carriera, costellata di successi come i titoli di campionessa europea e mondiale dei pesi Mosca per ben sette volte. L'atleta è stata ospite d'eccezione del Rimini Wellness. Io sono una romagnola quindi la fiera del wellness l'ho sempre vissuta, sia come protagonista in questo caso ma anche come spettatrice. Quindi sono sicuramente molto felice anche perché sono una grande famiglia degli sport da combattimento e quindi per me è anche un divertimento. Al momento la sua carriera è uno stop ma la pugile non molla la presa. In questo momento sto valutando perché non ho proposte né in Italia né all'estero. Vediamo, in questo momento sono diciamo sul finire della carriera. Mi piacerebbe concludere molto con un titolo di nuovo, nuovamente. Non so se riuscirò a farlo, altrimenti mi dedicherò al mio futuro, all'insegnamento, a tutto quello che ho imparato e di trasmetterlo alle leve future, ai giovani di adesso.